Musica Fuzza all'impresa sportiva della Vista Gubbio che ribalta il 2 a 6 dell'andata e travolge il Domizia Castelvolturno nella semifinale playoff per salire in serie B. Ora in finale i siciliani della Kragas, stasera speciale fuorigioco dall'eventione 15. Una grande festa del rugby, quella andata in scena nel weekend a Gubbio. Oltre 1500 ragazzi da tutta Italia che hanno colorato i campi del Barbetti e Zappacenere dopo la spettacolare apertura della Kermessa a Piazza Grande. Buonasera, ben ritrovati con il notiziario sportivo di TRG. Il Fuzzal stasera in primo piano perché c'è una squadra di Gubbio che potrebbe brindare alla promozione in serie B. E' la Vista Gubbio che ha messo a segno una vera impresa sportiva. Sabato in una polivalente stracolma con oltre 500 tifosi la squadra ha travolto i campani del Domizia per 7 a 1 ribaltando il 2 a 6 subito all'andata. Un successo straordinario che lancia il quintetto di Marco Bettelli ad un passo dalla promozione. Incerte ancora le date e le sedi delle due finali di andata e ritorno. Non si giocherà sicuramente il 2 giugno che a Gubbio vede protagonista la festa dei ceri. L'ipotesi più probabile al momento sarebbe l'andata in Sicilia il 3 giugno e il ritorno alla polivalente sabato 9 giugno. Ma solo nei prossimi giorni ci sarà la decisione finale. Della gara e delle prospettive della finale parleremo stasera in una puntata speciale di Fuori Gioco in onda alle 21.15. Ospiti in studio il tecnico Rosso Blu Bettelli e uno dei protagonisti della stagione e anche di questi playoff Lorenzo Martella. Appuntamenti alle 21.15 con una sintesi della gara. Gara che potrete integralmente vedere domani alle 22 su TRG1 canale 111. Intanto il weekend alle spalle ha ospitato a Gubbio la grande festa del rugby. Quella andata in scena con oltre 1500 ragazzini provenienti da tutta Italia che hanno colorato i campi del Barbetti e Zappacenere dopo la spettacolare apertura della Kermesta a Piazza Grande. Vediamo. Una a due giorni piena di colori, entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di correre e divertirsi dietro l'ovale. Questa può essere una succinta sintesi di ciò che è stata la terza edizione del torneo Mini Rugby Lupo di Gubbio organizzato dal Rugby Gubbio 1984 con il supporto dell'amministrazione comunale di Gubbio e che comprendeva tutte le categorie dell'età dall'Under 6 sino all'Under 14. Circa 1100 piccoli atleti sono stati protagonisti nei due impianti che hanno ospitato la Kermess, lo stadio Pietro Barbetti e l'impianto sportivo Luciano Cambiotti di Zappacenere. Oltre 1500 le persone arrivate sotto i cinque colli da ogni parte d'Italia se si comprendono istruttori, dirigenti e accompagnatori. Suggestivo è il colpo d'occhio sabato sera in Piazza Grande quando c'è stata la cerimonia inaugurale con l'esibizione degli sbandieratori di Gubbio e il saluto degli organizzatori, componenti del Rugby Gubbio. Oltre 1200 persone hanno partecipato nel cuore del centro storico gubino alla cena del torneo e per l'occasione sono stati organizzati dei turi della città per integrare al meglio le squadre partecipanti con i luoghi e le bellezze cittadine. Un'esperienza di condivisione sportiva e culturale importante anche per realtà come Monti Rugby Rovigo che rappresentano l'elite del rugby nazionale. Proprio Rovigo ha vinto di fatti il premio Lupo di Gubbio, piatto in ceramica raffigurante tutti i loghi delle società partecipanti realizzato da ceramiche fumanti, come miglior società dell'intera manifestazione per aver ottenuto i piazzamenti migliori in tutte le categorie, mentre Lupi Frascati Rugby ha conquistato il premio Fair Play dedicato alla memoria di Andrea Coccia, indimenticato amico del rugby Gubbio. Per quanto riguarda i risultati delle categorie, nell'Under 6 tanto divertimento ma nessun vincitore, con riconoscimenti per tutti, tra le 11 compagini partecipanti, mentre nell'Under 8, categoria comprendente ben 22 formazioni suddivise in 4 gironi, finale tutta a Medir Rovigo, con la squadra A del Monti che supera 2-1 la squadra B. Nell'Under 10, grande bagarre con 17 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi e atto finale tutto laziale, con successo di aprire rugby per 3-1 sui romani del rugby nuovo salario, mentre nell'Under 12, primo posto ancora per il rugby Rovigo, che regola 2-1 Rugby Perugia Junior. 4 gironi anche nell'Under 14 maschile, dove a spuntarle è stato il rugby monselice, che nella finale batte 4-1 il club rugby Yesi. Da rimarcare anche l'esordio assoluto nel torneo della categoria Under 14 femminile, dove non c'è stato nessun vincitore tra le quattro squadre partecipanti, ma riconoscimenti per tutte le atlete in gara, anche se si sono particolarmente distinte Aprilia Rugby e le ragazze del rugby gubbio. Weekend all'insegna di quella cultura sportiva, dunque, sia dentro che fuori dal campo, che il rugby gubbio 1984 vuole trasmettere da sempre. Gli impianti del Barbetti e del Cambiotti sono stati lo scenario perfetto per ospitare l'evento e in una nota del sodalizio rosso-blu si rinnova il ringraziamento all'amministrazione comunale, ai medici, alla Croce Rossa e a Gubbio Soccorso per aver salvaguardato l'incolumità degli atleti, ma soprattutto ai tanti volontari facenti parte dell'SD Rugby Gubbio 1984, che hanno contribuito alla realizzazione del torneo. Un ringraziamento inoltre a tutte le strutture ricettive del comune di Gubbio, che si sono adoperate per la buona riuscita della manifestazione, che anno dopo anno diviene appuntamento sempre più di rilievo nel panorama del mini-regby italiano. Un pianpio servizio in onda domani nel nostro TRG Plus alle ore 21. Il calcio con la Serie C che ieri ha emesso un nuovo verdetto. È il Sant'Arcangelo, la seconda retrocesta del girone, dopo il Modena escluso fin da dicembre. I romagnoli hanno persi i play-out con il Vicenza. Dopo il 2-1 al Menti, il ritorno in terra romagnola si è chiuso sull'1-1 con le reti di Giacomelli per i Veneti e l'inutile pari di Piccioni al 95esimo. Scoramento dell'ambiente romagnolo con la squadra salvatasi sul campo, ma finita i play-out per una penalizzazione dovuta a irregolarità amministrative. Ed ora i dilettanti, continua il sogno del Cannara di poter salire in Serie D. I rosso-blu battono anche nella semifinale di ritorno il Rosselli-Mutina per 2-0 allo stadio Braglia di Modena e conquistano la finale promozione che dovranno giocare con i sardi della Torres. Dopo l'1-0 dell'andata bastava un pari all'11 Umbro che però dopo aver controllato il match nel primo tempo ha colpito nella ripresa con un euro-goal di Lepri alla mezz'ora della ripresa e un'inzuccata di Fastellini nei minuti di recupero. Fine settimana con amare in bocca invece per le giovanili del Gubbio dopo il rinvio dei quarti di finale play-off Berretti. Causa ricorso del Fondi, sentenza attesa il 30 maggio. Ieri in campo è scesa solamente la squadra Under-15. I baby di Mr. Passeri impegnati anch'essi nei quarti di finale play-off gara di ritorno non sono riusciti a passare il turno con il Bisceie. I Rosso-Blu dopo l'1-0 subito la scorsa settimana in Puglia dovevano solo vincere invece è finita 1-1. Un esito che stromette la squadra della Città dei Ceri dal sogno tricolore chiamata Final Four. Si conclude comunque un'annata ricca di soddisfazioni con il record di aver mantenuto l'imbattibilità casalinga sia in campionato che nelle due sfide dei play-off con Viterbesi 2-2 e Bisceie 1-1 oltre ad aver valorizzato tanti ragazzi di belle speranze. Soddisfatto per i risultati raggiunti Mr. Passeri che ha elogiato la squadra e ha parlato di un gruppo sul quale poter puntare nel futuro. Era l'ultima notizia. Grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Grazie a tutti.